Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha annunciato nel corso dello speciale Prima Pagina in onda su TV1 stasera alle 21.30 una importante novità sul recupero del debito da oltre 500.000 euro accumulato dalla precedente amministrazione in merito al pagamento del servizio mensa scolastico. Una parte considerevole del suddetto debito è infatti già stata recuperata, ma sentiamo il sindaco Chiassai. Vorrei che questa questione fosse chiara. Quando noi siamo arrivati abbiamo trovato più di 500.000 euro che prima, come vi ho detto, noi abbiamo degli oneri di urbanizzazione che ci permettono di fare lavori straordinari o anche non di una portata di circa 300.000 euro, quindi per noi una cifra del genere è una cifra importantissima di persone che non avevano pagato i trasporti e la mensa scolastica. di famiglie avevano accumulato anche un debito di oltre 2.000 euro. Tutte famiglie non bisognose, io questo voglio che sia chiaro, perché chi non può permettersi la mente del trasporto per i figli viene aiutato dal servizio sociale. Quindi queste erano semplicemente persone che hanno fatto i furbi perché sapevano che non venivano controllate. Allora noi siamo ripartiti dal rispetto dei nostri cittadini, perché c'era chi pagava e c'era chi faceva il furbo e non pagava. Allora i nostri uffici, io ci tengo anche io a ringraziarli veramente perché il cittadino non può rendersi conto del lavoro certosino che questi uffici hanno fatto, hanno chiamato una ad una tutte le persone che avevano un debito per questi servizi e siamo arrivati, come diceva prima il vice sindaco, a recuperare per ora il 40%, cioè oltre i 200.000 euro sono già stati recuperati sui 531.000 e rotti euro che il comune doveva riscuotere. Il resto sono stati messi in mora, quindi la procedura va avanti. Io voglio che sia chiaro che questa amministrazione cerca di fare giustizia e non può andare a chiedere soldi in più perché mancano perché c'è chi ha fatto il furbo. Questa cosa deve finire e voglio appunto precisare che è stato fatto un lavoro veramente impegnativo ma che assolutamente era indispensabile per equità sociale. Lo stesso, un'altra questione volevo precisare. Intanto che questo nuovo sistema sui trasporti e sulla mensa è veramente un sistema innovativo di cui vado particolarmente fiera. Io ringrazio l'assessore e ringrazio il dirigente e gli uffici perché sono stati dei mesi veramente complessi perché sono stati i primi a sperimentare sul territorio un tipo di pagamento che assicuri al comune che il cittadino paghi il servizio e non come è successo in passato dove il cittadino non virtuoso si poteva permettere di fare il furbo. Grazie. 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 Grazie.